Allora, io ho visto la trasmissione, me la sono vista con molta attenzione. La trasmissione è molto bella, è una grande idea. I miei dubbi sono semmai sull'invasione della politica dentro una classe di scuola elementare, perché non si chiama piccoli elettori crescono, si chiama alla lavagna. Mi piacerebbe che quella trasmissione parlasse di problemi, di grandi problemi. E questo è un grande problema. È un grande problema perché si chiama diversità. Io ho passato la mia vita a combattere l'odio nei confronti della diversità. Quindi si figuri se vengo qua stasera a dire che ai bambini non si parla della diversità. sono pieni di mostri nelle varie televisioni, non solo pubbliche, in cui il nero è trattato come nei campi di cotone di cent'anni fa. E quindi c'è una grande necessità di parlare. Ma i bambini, mi riferisco anche all'onorevole Sant'Anché, capiscono molto più di noi, hanno una sensibilità e una capacità di capire le cose più complicate. I bambini sanno quando due si separano, i genitori, molto prima dei genitori stessi. Hanno le antenne, hanno capacità e sono fuori dalle cose. Quindi, la domanda che io mi sono fatto, ma proprio quella trasmissione lì dove andare alle 8.20? Ma che ragionamento è? O fai una trasmissione per i bambini e la metti agli orari dei bambini, o cosa fai? Una trasmissione per i bambini e la metti di notte. Allora sfrutti i bambini. Scusa, eh. Annuncia. Abbia pazienza.